Cristiano tra i musulmani, arabo in Europa. Lo scrittore franco-libanese Amin Mahalouf è la sintesi dell'incontro tra le culture del Mediterraneo. Intellettuale amatissimo nel mondo arabo è stato insignito in Spagna, del prestigioso premio Principe delle Asturie 2010 per la letteratura. Amin Mahalouf, benvenuto su Euronews. Amin Mahalouf, lei ha ricevuto il premio Principe delle Asturie 2010 per la letteratura ed è solo l'ultimo riconoscimento ottenuto per i suoi scritti. In Spagna si tratta del premio più prestigioso. Rappresenta qualcosa di particolare per lei. Come lo valuta? In effetti questo premio ha un significato particolare per me perché con la Spagna ha un rapporto antico e profondo. Il mio primo romanzo, Leone l'Africano, comincia in Spagna. L'Andalusia rappresenta una tappa importante nella storia dell'umanità. È un crocevia per la civiltà arabo-islamica, ispanico-europea-cristiana e la civiltà ebraica, che hanno vissuto qui una tappa della loro storia e credo che oggi questo vada ricordato. Ciò significa che esiste l'incontro di civiltà oltre allo scontro di civiltà? Io non condivido la teoria dello scontro tra civiltà e dobbiamo combattere quelli esistenti. Non si può pensare che questo sia il destino del mondo, il suo futuro, che questa sia la naturale dinamica delle relazioni tra i popoli. È una modalità aberrante che dobbiamo superare. L'umanità l'ha fatto in altre circostanze e ora tocca a noi, perché il futuro del mondo dipende dal successo della convivenza, non solo tra civiltà, ma anche tra persone. Pensa che nello spazio europeo e nei singoli stati che lo compongono si possa concretamente realizzare questa idea. Bisogna che l'Europa dia l'esempio, perché è in grado di risolvere il problema. Ma credo anche che non ci stiamo impegnando in questa direzione. Dobbiamo dire alle persone, specialmente ai giovani, che la convivenza è qualcosa che si impara durante tutta la propria vita e bisogna allenarsi. Dal suo esordio come scrittore, lei ha pubblicato 14 opere. leggendole, tutte hanno come filo conduttore lo spirito di conciliazione e tolleranza, l'idea di cittadinanza del mondo. La considera una visione utopica di un mondo nuovo? Può essere una visione utopistica, ma oggi è ciò di cui abbiamo bisogno. Il mondo in cui viviamo è profondamente cambiato dal punto di vista materiale, ma non a livello di mentalità. Un poeta arabo del VII secolo ha detto se la terra mi avesse creato, tutte le terre sarebbero mie e tutti i popoli la mia famiglia. Credo che oggi dobbiamo fare nostra questa idea e cioè che il destino dell'umanità e il destino del mondo coincidano. Ma lei ha criticato l'Occidente con veemenza dicendo che ha raggiunto la soglia dell'immoralità nel rapporto con gli altri mondi. È così, ma credo anche che l'Occidente sia profondamente legato a certi principi, gli stessi che però non applica da secoli nel rapporto con gli altri. Ad esempio, il Regno Unito non si è comportato in India come ha fatto nel proprio paese. La Francia non è stata la stessa entro i propri confini e in Algeria o in Madagascar. Il Belgio non si è comportato allo stesso modo in Belgio e in Congo. Gli Stati Uniti, in qualità di superpotenza e grande democrazia, non sono stati in grado di applicare gli stessi principi quando sono intervenuti in Sud America e in altri luoghi del mondo. Come è accaduto in Iraq. Come ovunque. Bisogna che le persone che hanno dei principi li rispettino, non solo a casa propria, ma anche nei rapporti con il resto del mondo. So che lei ha pianto il giorno in cui l'Iraq è stato invaso. No, quello che mi ha fatto piangere è stato l'inizio del conflitto religioso. Mi ha fatto molto soffrire. E certo, anche tutto ciò che ho visto negli ultimi anni in Iraq mi ha fatto piangere. Dopo questa crisi economica che ha scosso il mondo, lei ha attaccato aspramente il capitalismo definendolo selvaggio e attribuendogli la colpa della catastrofe attuale. Chi parla così è forse lo stesso Amin Malouf che quando era giovane disegnava alla falce il martello sulla propria agenda? Diciamo con un punto di vista socialista. No, io credo che oggi non si possa dimenticare il fallimento dei regimi caduti con il crollo del muro di Berlino. È una lezione della storia che non possiamo mettere da parte. La soluzione è il capitalismo ma non uno qualunque. Non certo questo capitalismo che considera l'economia come un grande casino nel quale pochi giocano con il destino di migliaia di persone. Quello di cui c'è bisogno oggi è di un'economia che tenga conto dell'uomo, rispetti l'uomo e i suoi valori. Amin Malouf torniamo a parlare di identità. Lei è libanese, cristiano, arabo, francese, europeo. Quale di queste identità assomiglia ad Amin Malouf? Un giorno a una donna del popolo è stato chiesto quale dei tuoi figli ami di più? E lei ha risposto il malato finché non guarisce, l'assente finché non fa ritorno. E io dico la stessa cosa per le mie identità. Soffro quando ci sono dei problemi in Libano perché mi sento libanese ma avviene lo stesso quando i problemi sono in Europa. Mi comporto come europeo. Amin Malouf, shukran lak. Shukran Arani.